Ho invitato Maurizio Gianotti che è un autore televisivo e componente anche del direttivo Anart, attualmente autore di La vita in diretta e Vincenzo Galluzzo che è autore di programmi della televisione, ho letto perché mi sono informata, è giusto che vi presenti, dal 1989 e ha lavorato con tutte e tre le reti RAID, è stato autore delle più importanti trasmissioni quotidiane Una mattina, La vita in diretta, cominciamo bene e adesso torno e quindi ci parleranno e poi c'è Gregorio Paolini che sta arrivando e quindi aspettiamo che arrivi Sì, sì che è responsabile, Gregorio Paolini è stato responsabile di alcuni format originali, di una struttura produttiva che a Canale 5, insomma Mediaset, ha varato molti format originali fra cui L'Angelo, Target, Verissimo, Ciro, il figlio di Target, La macchina del tempo e in RAI, quando è passato in RAI ha fatto Convention, Gaia e adesso è il capo progetto della vita in diretta ed è un autore Anart e quindi siete tutti... voi avete anche lavorato nella struttura RAI che si è occupata dello sviluppo di nuove idee Gregorio, la gestiva, noi abbiamo fatto RAI Lab Allora, adesso tra un minuto passo la parola a Vincenzo che è un po' la memoria storica della vita in diretta perché di noi, compreso Gregorio, è il più anziano, ahimè, non anagraficamente ma come rapporto con vita in diretta che è un programma che ha la sua età, insomma, è un programma molto maturo che comunque è sempre efficace volevo fare solo una piccolissima premessa che riguarda proprio quello che sentivo dire con grande piacere da Linda, da Biagio e da Massimo Cinque sul discorso della creatività allora, io mi trovo qui per parlare con i miei amici e colleghi della vita in diretta e di quello che è, se c'è il format della vita in diretta, se si può trasformare in format, se si può essere riconosciuto come format e qual è l'apporto creativo, che secondo me è molto notevole volevo solo presentarmi come un caso limite, credo, spero di essere un caso limite che non sia il mio, il caso di gran parte dei colleghi e degli autori cioè io sono iscritto alla SIAE dagli anni 70, quindi purtroppo non sono proprio giovanissimo, lo sono dentro ma negli ultimi anni, dal 1991, quindi fate il calcolo, a parte una serie di programmi tutelati dalla SIAE sezione DOR io faccio, quindi dal 1991 a oggi, tutti i giorni sono in onda prima su Mediaset, poi su Rai 1 una mattina, poi la vita in diretta, per un totale di ventiquanti anni sono, ventiquattro come non creativo, cioè io non sono creativo, nel senso che quello che io faccio si chiama testi espositivi non creativi in tutto questo ho scritto di tutto, sceneggiature, qualsiasi cosa, però voglio dirvi i generi di cui stiamo parlando in questo momento evidentemente non sono riconosciuti perché praticamente non essendo opera dell'ingegno, non essendoci creatività io non sono un autore, neanche i miei colleghi, né lui né Gregorio detto questo, prima di passare la parola a Vincenzo che ci parlerà proprio della struttura di vita in diretta che attualmente lui con Gregorio ha riprogettato rappresento Gregorio che sta proprio arrivando però ecco è una cosa che tengo a dire l'anno scorso quando c'è stato appunto un cambiamento nel programma a Gregorio è stato affidato il compito di effettuare una sorta di restyling allora lui ha utilizzato le tecniche della creazione del format su un programma strutturato e con una lunga storia alle spalle allora quello che è l'elemento fondamentale del lavoro che Gregorio ha fatto in questo caso su un programma, ripeto, preesistente con una lunga tradizione è stato quello di identificare il programma cioè di definire la brand identity del programma programma vita in diretta con la RAI quindi ha fatto tutto uno studio, chi lo guarda può andare a vedere c'è stato tutto un lavoro di grafica tra sigle, riprese, servizi tutto quello che c'è nei label che è ispirato e preso direttamente dalla grafica della RAI dalle storiche immagini della sede RAI per dare sì che si identifichi la credibilità della RAI nella quale noi crediamo e la sua funzione di servizio pubblico che comunque noi continuiamo tutti quanti a sostenere è l'estetica del programma cioè i due brand si uniscono e rappresentano la RAI questo era una delle cose che ha fatto Gregorio adesso c'è Vincenzo che ci porta l'esperienza dai tempi credo di cucuzza a quelli di oggi grazie Maurizio, buongiorno grazie a Linda Brunetta per la bella presentazione c'è un programma però che vorrei citare che non è stato citato che mi riguarda che è verdetto finale, oggi torto o ragione che è stato quello più controverso dal punto di vista del riconoscimento della SIAE con Fausto Enni perché il programma era prodotto diciamo ai mezzi Endemol-RAI quindi io rappresentavo la parte RAI Fausto Enni il responsabile della parte Endemol abbiamo cercato in vano di far riconoscere questo programma appunto affinché avesse la tutela della SIAE purtroppo questo ci è stato negato ed è strano ed abbastanza bizzarro che si neghi questo riconoscimento ad un programma che è totalmente scritto che è totalmente inventato perché come sapete le storie sono verosimili nel senso che traggono ma come tutto il resto ispirazione dalla realtà ma che nascono comunque dalla fantasia degli autori e dei collaboratori che fanno il programma detto questo comunque sono qui per parlare di vita in diretta per ripercorrerne un po' la memoria che a parte la questione SIAE vita in diretta ha anche un altro problema che non è mai stata riconosciuta come testata giornalistica pur essendo un programma d'attualità pur essendo nato come programma d'attualità e mantenendo anche questa struttura io torno a vita in diretta dopo 15 anni quindi trovando il programma anche un po' trasformato, evoluto, diverso da quello che era come l'ho conosciuto io quando avevamo un solo conduttore che era Michele Cucuzza la regola toaffiana di toaffiana memoria era due minuti di studio tre minuti di RVM perché le vecchie si addormentano quindi questo era il era il format la regola principale per cui anche un colpo di batteria una svisata ad una chitarra che facesse da sottofondo ai servizi che si producevano serviva a tenere su viva l'attenzione delle persone che ci seguivano perché poi è inutile negarcelo il pubblico italiano da 50 anni a questa parte secondo il mio modesto parere non è mai cambiato perché sempre ultra sessantenne bassa scolarizzazione così ci viene detto sempre dalle analisi per cui devi parlare quel linguaggio quel tipo di linguaggio che io avevo anche appreso da un altro maestro che è stato il mio primo maestro col quale sono stato per 11 anni Michele Guardi che parlerà poi più tardi nel pomeriggio e poi invece è arrivata la scuola di Toaf quindi dal punto di vista credo le peggiori scuole mi sono capitate nel senso che ci ho rimesso anche i capelli però ringrazio queste due persone per avermi insegnato quello che oggi so e che ho messo a disposizione dei programmi dei quali ho fatto parte quindi vita in diretta da prima c'era un solo conduttore con un ospite in studio vi vorrei ricordare in genere era la bella Stefania la bella Vincenzina la bella Concetta che comunque servivano da pretesto facevano quasi da veicolo per saltare da un servizio all'altro da una diretta all'altra e allora ce n'erano tante di dirette c'erano tanti servizi oggi i mezzi sono un po' come dire ridotti sappiamo tutti diciamo per via della crisi quindi dobbiamo fare di necessità virtù cercare di di spendere il meno possibile e dare un prodotto migliore che si possa quindi c'erano servizi dirette ed era veramente un continuo entrare uscire dalle case degli italiani dalle piazze di tutta l'Italia con una particolare attenzione alla cronaca nera allora eravamo in cinque in questo programma Daniel Toaffedio che ci occupavamo della parte dell'attualità e della cronaca rosa Walter Preci Antonella Del Prino e Tullio Fazzolari che seguivano la cronaca nera ritorno dopo 15 anni il format è leggermente cambiato innanzitutto c'è la doppia conduzione quindi si fa più attenzione anche allo studio e agli ospiti che vengono a partecipare nei programmi quelli che noi chiamiamo gli opinionisti forse dovremmo anche un po' rinnovare il parco degli opinionisti come tante cose nella televisione anche perché spesso poi ci ritroviamo nei vari programmi tant'è che un giorno scherzando io dissi facciamo dei pulmini uno che va ad uno mattina prenotare la fermata si scende l'altro che va a storie vere quello che viene a vita in diretta e via dicendo quindi forse anche lì dovremmo prestare maggiore attenzione detto questo per quel che riguarda diciamo gli ultimi proprio periodi di vita in diretta sostanzialmente per avere la meglio sulla concorrenza finalmente ci siamo riusciti perché insomma il programma ha avuto degli anni di sofferenza sostanzialmente l'intervento diciamo è stato fatto su due punti nevralgici del programma anche perché vita in diretta oggi è diviso in due parti la prima parte che poi lascia il posto ad un altro mio vecchio programma che è torto o ragione e poi la riprendiamo noi abbiamo potenziato trasformato un po' la prima parte che era concepita ma in era diversa mettendo cercando di farlo più di velocizzarlo anche un po' più sprint nella prima parte quindi mettendo lì un rotocalco vero e proprio cioè varie notizie commentate dagli ospiti in studio dagli esperti qualora se ne avverta la necessità e nella seconda parte della prima parte quella che è al rientro dalle pubblicità delle 14 e 43 abbiamo potenziato il settore delle storie per cui raccontiamo devo dire soprattutto grazie a Maurizio e alla sua e alla squadra che dirige delle storie abbiamo raccontato delle storie bellissime abbiamo risolto anche delle situazioni gravi di persone che vivevano delle situazioni borderline per cui veramente televisione di servizio e poi abbiamo inciso alla ripresa del programma quindi al rientro dal telegiornale alle 16 e 44 cercando non me ne vogliano quelli della concorrenza di dare fastidio a questo maledetto tra virgolette attenzione lo dico con ironia segreto questa telenovela che è stata un po' per noi come dire una sorta di maledizione quindi abbiamo messo nella parte di vita indiretta che va contro segreto non più le cose deboli perché prima magari si pensava tanto contro segreto non si può io non sono mai stato di questo parere credo che nella vita si debba almeno tentare di combattere quindi abbiamo messo un segmento che fosse come dire propedeutico alla cronaca nera chiamata noi in gergola chiamiamo neretta che sono quei casi che magari andiamo a scovare che andiamo a scoprire che ancora non hanno raggiunto il grande pubblico ma che riteniamo essere di interesse e che possano sostenere ancora di più la seconda parte quando parte il nostro concorrente diretto che è Barbara D'Urso che è pomeriggio 5 grazie a Dio questa strategia in qualche modo ci ha dato ragione l'abbiamo spuntata e siamo riusciti a riportare il programma laddove doveva stare io mi chiamo Lucilla Franchetti sono giornalista lavoro a Rai News 24 ma nel corso degli anni ho scritto testi per Alessandro Cecchi Paone a Canale 5 ho scritto i testi per Amedeo Goria a Uno Mattina in brevi periodi e altri diciamo testi però io vedo tutto questo da un altro punto di vista non da quello degli autori ma da quello di un giornalista perché l'infotainment è fatto della parte intrattenimento ma anche della parte informazione e a questo punto penso che anche noi avremo bisogno di un riconoscimento perché Uno Mattina era fatto per metà dalla rete e per metà dai giornalisti della Rai però dei testi che io facevo per il conduttore Amedeo Goria mi veniva detto sono testi da giornalista sono parte del tuo lavoro e non è mai stato lontanamente ipotizzato che il mio lavoro potesse ottenere un riconoscimento come autore dalla SIAE questo per dare uno spunto per un altro aspetto del riconoscimento come autori editori e che credo che sia e credo che la situazione sia assolutamente la stessa nel corso del tempo non solo quando anni dopo per varietà dopo tanti anni a Rai News 24 ho pensato potrei anche collaborare alla vita in diretta mi viene detto il contrario la parte giornalistica la fanno gli autori e sono anzi mi hanno detto sono una cassa privilegiata non si può toccare non si può entrare per cui ci sono anche altri aspetti da tenere presenti e anche noi giornalisti in un certo senso abbiamo riconoscimento del nostro lavoro ma come sia e non siamo assolutamente tutelati mi spiace che sia andato via Massimo Cinque perché forse Massimo avrebbe potuto rispondere alla sua domanda capisco quello che vuole dire ho fatto anch'io uno mattina per la parte rete e non per la parte giornalistica però non ho gli strumenti tecnici per poter dire perché i giornalisti non prendevano la CIA sicuramente un motivo ci sarà non sarà stata una non possono scusate credo che non possono esatto non possono prenderla perché sono giornalisti chiedo scusa come allora mentre devo darle una buona notizia la casta è stata sconfitta è stata eliminata appunto non c'è più la CIA nemmeno uno ci hanno ammazzati quindi abbiamo pagato per tutti detto questo però che io sappia perché ne abbiamo parlato a lungo nel direttivo Anart eccetera e c'era stato c'erano anche tutta una serie di assemblee di giornalisti che dicevano proprio quello che dice lei che devono riconoscimento chi ha il contratto come giornalista e chiede di avere che lavora per la rete a uno mattina e chiede il riconoscimento giornalistico di quello che fa non può prendere la CIA non può aspirare la CIA perché è un altro tipo di contratto questo è quello che credo sia lo status attuale ma io sapevo che invece appunto gli autori per esempio la vita in diretta avevano alla RAI il contratto autori che aveva già è un'altra cosa è un'altra cosa ancora il contratto d'autore è purtroppo una trappola nel senso che lei è un autore ok benissimo adesso che abbiamo questa bella qualifica ci mettiamo i galloni la feluca eccetera detto questo però se scrivono che i nostri testi sono espositivi non creativi non frutto dell'ingegno noi siamo dei meri esecutori cioè siamo degli operai della parola non ci viene riconosciuto il fatto che noi facciamo operiamo una drammatizzazione lo storytelling di quello che facciamo lui parlava prima di aver detto finale io sono un autore storico di forum 13 anni della mia vita sono stati ignorati stesso problema ma a vita in diretta come uno mattina chi può dire che non siamo creativi come anche lei del resto uno psichiatra probabilmente dovremmo sottoporci ad una visita e dire questo è idoneo ad esporre l'altro a creare penso forse questo ma io trovo molto creativo da parte della RAI essersi inventata questa dicitura per i contratti testi espositivi non creativi perché non esiste la possibilità cioè non esistono testi non creativi poi possono essere non si autogenerano qualcuno li scrive perché cioè voglio dire dalla legge sul diritto d'autore una delle opere inserite come tutela è il programma per il laboratore ora non capisco perché il programma per il laboratore debba essere considerato qualcosa di creativo per cui vengono pagati i diritti di autore chi o anche il bozzetto della scenografia però invece per quanto riguarda questa casta privilegiata come usano definirci anche per quanto riguarda la non previdenza che abbiamo siamo molto privilegiati non abbiamo la pensione e quindi ritengo veramente assurdo no non sono triattivi io penso che veramente sia detto prima e lo ridico adesso è un pregiudizio culturale che denota solo la retratezza del nostro paese in questo campo perché in altri paesi viene riconosciuto il lavoro creativo come un lavoro di professionisti in questo paese è un lavoro da dilettanti che chiunque può fare cioè un paese dove c'è ancora dico la la legge Bacchelli per cui il poeta viene seppellito grazie alla beneficenza del pubblico è un paese incivile a mio parere assolutamente questo è quello che va che va detto stiamo veramente lavorando per sensibilizzare sia l'opinione pubblica che le istituzioni che sembrano cieche di fronte a questa questione dal piano contrattuale in poi comunque cioè è molto interessante poi ne parlerà Freccero verso quando arriverà verso mezzogiorno e mezza il fatto dello schema degli schemi narrativi che sottostanno a determinati programmi come poi per detto finale mi sembra fosse uno degli esempi più eclatanti perché sono scritte delle sceneggiature delle vere e proprie sceneggiature vengono dichiarati nei titoli i nomi degli attori che hanno interpretato i personaggi per cui non c'è nemmeno il tentativo come qualche trasmissione aveva fatto in passato di indurre nell'inganno attraverso appunto il gioco dell'ambiguità il telespettatore esatto noi insieme no 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 anche prima anche altri programmi dove noi abbiamo dichiarato e nonostante questo le persone non vogliono credere che sia finto a me succedeva spesso di scendere giù per strada dal portiere al fruttivendolo che ti dice ah ma quello dice ma guardate che è tutto finto no non è possibile la gente vuole credere che sia vero e del resto insomma c'è perché c'è però veramente tu sono 25-30 pagine di copione che quotidianamente vengono stese a verdetto finale ora viaggio a proietti però deve fare un'obiezione no devo fare una cosa perché mi riguarda personalmente perché ero il presidente della commissione d'or prima di lei e facevo parte della commissione noi abbiamo riconosciuto lo so voi cioè la SIAE il problema la SIAE l'ha riconosciuto che è verbale che siete una cosa precisa anche con forum c'era in realtà gli autori di forum poi per vari motivi non hanno mai fatto la domanda di riconoscimento voi l'avete fatta e noi abbiamo riconosciuto ma c'era un problema che secondo me deve uscire anche oggi da qua è il problema che avete ceduto i diritti alla Endemore non possiamo fare due cose questo è il problema anche perché c'è una confusione io ho litigato con la gente di Enni e credo forse il tuo c'è una distinzione fra i diritti di autore e la SIAE sono la stessa cosa la SIAE gestisce i diritti di autore allora se tu autore cedi il diritto di autore a un privato o alla RAI addirittura c'erate un problema beh questo fa capire la confusione che c'è dentro la RAI metà degli autori erano con contratto con la RAI e metà degli autori erano con contratto con la RAI quindi pensa però il risultato comune di tutti è che c'erano contratti portati dalla RAI ovviamente per difendere le sue tesi e noi non potevamo fare almeno di constatare che c'è avverbale che voi siete quel programma sarebbe tutelabile se però non ci fossero contratti d'autore privati perché sono contratti d'autore e questo è il problema che dobbiamo anche discutere non c'è questa confusione fra una cosa e la invece trovo estremamente grave scusa una cosa che non avete detto che la vita in diretta non è SIAE no no l'ho detto uno mattina uno mattina scusate non è SIAE non è nemmeno testata giornalistica c'è un duplice problema non è niente non si capisce che cos'è chiudiamolo che vi devo dire non si capisce che ecco ma la cosa grave è che una rete come RAI1 così vi rendete conto fra uno mattina che arriva fino a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo ai miei tempi la SIAE c'era o meglio io ho vissuto tutte e due le parti SIAE come dire con portafoglio o senza portafoglio ho vissuto tutti e due i periodi io purtroppo sono più anziano di voi anche più anziano di Gianotti che è tutto dire allora uno mattina ai tempi negli anni in cui è nata se non sbaglio il 70 70 o il 77 o il 78 c'era il contratto a forfè fra la RAI e la cosa per cui la RAI pagava un forfè in percentuale degli incassi insomma degli introiti eccetera eccetera e poi era la SIAE a stabilire quali erano i programmi che andavano tutelati e non tutelati la RAI non solo tutelò ma fece un'avvertenza per essere riconosciuto uno mattina e uno mattina fu riconosciuto come contenitore non è che non c'era il genere c'era era un contenitore era un contenitore hanno smesso di tutelarlo ancora ignoro i motivi da due o tre anni no no dunque fammi fare un calcolo nel 2006 2007 credo